Grazie, poi perdonatemi se vado via un po' prima, però a proposito di gabbia, cioè quella che è stata comunque la prima trasmissione che ha avuto il merito di parlare della fregatura dell'euro, la gabbia di Gianluigi Paragone, quindi dalle 10 e un quarto vado a combattere là contro gli europirla, quindi vi lascio comunque in buone mani e in buona compagnia. Ma è l'ultima tappa lombarda di una scommessa, partimo per scommessa, ormai l'anno scorso da Milano dicendo ma qualcuno uscirà di casa di giorno o di sera per parlare di economia di Europa, di euro di futuro, non è che verranno inventi, perché è vero che su Facebook e su Twitter il dibattito impazza, però conto è Facebook, conto è Twitter, un conto è un teatro come questo, un conto è andare a riempire le sale a Firenze, a Reggio Emilia, a Torino. Abbiamo fatto la tappa di Udine, chiamato la Lega Nord del Friuli e gli faccio dov'è che facciamo l'incontro? A Udine Centro? No, l'incontro sull'euro lo facciamo in montagna, l'incontro sull'euro lo facciamo a Monte di Buia e allora io vado su internet perché alzi la mano chissà dov'è Monte di Buia, bellissimo posto in mezzo ai boschi in alta montagna in provincia di Udine, ho detto sarà una roba per pochi intimi, ci troveremo in 30 a fare due chiacchiere, c'erano 500 persone, il che vuol dire che la gente non è tele rincoglionita, la gente ha voglia di capire, la gente ha capito, io ho capito qualcosa, non tutto, in ritardo colpevolmente perché qualcuno l'aveva capito fin dall'inizio che questa era una fregatura e visto che ci avviciniamo alla domenica di Pontida a questo qualcuno va l'eterno ringraziamento non di forma ma di sostanza e questo qualcuno è Umberto Bossi, ovviamente che ha capito tutto prima di tanti, perché se ci andiamo a rileggere quello che diceva Bossi vent'anni fa sembra che l'abbia detto Renzi ieri, solo che Renzi si è svegliato vent'anni dopo, camminando sulle acque però si è svegliato vent'anni dopo, arriva tardi, va bene, l'importante è arrivarci. Che cosa è successo? Che ci stavamo chiedendo perché la Brianza, la Lombardia, la Padagna, l'Italia faceva fatica, sicuramente perché l'Italia ha dei problemi, l'assistenzialismo al sud, i falsi invalidi, i falsi forestali, il triplo dei dipendenti pubblici in Calabria rispetto alla Brianza, i trasferimenti, la corruzione, le auto blu, le auto lilla, le auto gialle, tutto quello che volete voi, contro cui la Lega è nata per combattere, evidentemente il federalismo fa rima con responsabilità, noi non è che abbiamo sostituito, questo ci tengo a dirlo da militante, non è che il basta euro vada a sostituire quello che è il programma della Lega, va ad aggiungersi, noi eravamo, siamo e rimarremo, convintamente, federalisti se non indipendentisti, quindi quello non si tocca, non è che ci siamo annoiati della padagna, passiamo all'euro, quello lo lasciamo fare al PD che ogni tanto cambia simbolo, cambia nome, cambia faccia, cambia bandiera, noi non ci vergogniamo di nulla, semplicemente mi è sembrato da europarlamentare che ci fosse qualcosa che non tornava, che le spiegazioni dei nostri problemi fossero sì nelle disfunzioni all'interno del paese chiamato Italia, però fosse intervenuta anche qualche fregatura da fuori, perché 12 anni fa con la stessa corruzione, la stessa burocrazia, gli stessi squilibri, gli stessi falsi invalidi, in ogni caso avevamo la quarta potenza al mondo, eravamo noi a vendere ai tedeschi, eravamo noi a vendere ai cinesi, eravamo noi a vendere agli americani, quindi o gli industriali brianzoli in 12 anni si sono rimbesuiti, oppure era successo qualcosa e questo qualcosa era una moneta sbagliata, io stasera vado in televisione, ormai mi sono stufato di litigare, si può o non si può, ormai ti dico no non si può uscire dall'euro perché perché no, dall'euro non si può uscire perché se no è un disastro, se usciamo dall'euro a Monza non si trova più parcheggio, il seveso esonda tutti i giorni e ci cadono i capelli, perché? Perché sì, e quindi i difensori dell'euro ormai finiti gli argomenti, io me li sono sentiti di tutti i colori, l'altra sera ero dalla Gruber e c'era non uno per caso, ma il vicepresidente del Parlamento europeo, l'onorevole Gianni Pittella che in un italiano tutto particolare mi diceva che se usciamo dall'euro verrebbero nullificati i risparmi in banca, il neologismo era simpatico però non ho capito perché con una moneta diversa se io ho 10.000 euro in banca passo da 10.000 euro a nulla, o arriva la banda Bassotti oppure c'è qualcosa che non torna nel ragionamento dell'onorevole Pittella e quindi però soprattutto perché è un film già visto, io me lo son letto perché non lo sapevo, mi sono studiato quello che è successo nel 92, qualcuno di voi se lo ricorderà, 11 luglio 92 non c'erano i mondiali, o forse sì ma non mi interessa, no 82, 86, 90, nel 92 non c'erano i mondiali, 11 luglio 92 il governo amato decide di rubare i soldi dal conto corrente, ve lo ricordate? Il 6 per mille, c'era la crisi, allora non si chiamava euro, lo ricordo ci sta ascoltando da casa e spero che siano in tanti, allora si chiamava SME come i supermercati di oggi, c'era la lira legata allo SME e non potevamo uscire dallo SME perché se fossimo usciti dallo SME era un disastro, i conti correnti si sarebbero nullificati, l'appartamento avrebbe perso di valore, fare benzina era un casino, le materie prime, non si pagava più il mutuo, tutto un disastro e allora cosa fanno per tenerci nello SME, mi sembra molto il discorso di oggi, prelievo forzoso del 6 per mille sui conti correnti, tassa sul medico di famiglia, tassa sulla casa, blocco degli stipendi per due anni, via dalla scala mobile, quindi gli stipendi non venivano rivalutati e via e via perché non potevamo uscire, non potevamo tornare alla nostra piccola moneta brutta e sfigata, dobbiamo stare nel monetone, nello SME e oggi è l'Euro, cosa succede? Tassa, tassa, tassa non regge, se il Milan fa schifo, fa schifo, non è che se c'è l'arbitro che ti aiuta vinci, se il Milan fa schifo fa schifo, puoi avere l'arbitro che ti aiuta una volta, due volte, tre volte ma il campionato non lo vinci, se hai una squadra che non ha né capo né coda, non vinci, lo dico da milanista con la morte nel cuore, non sto facendo un esempio a caso, se una moneta non sta in piedi, non sta in piedi, puoi tassare i conti correnti, il medico, la casa, il bidet, la doccia, puoi tassare tutto quello che vuoi, ma salta, cosa successi a settembre? La moneta saltò e uscimmo dal cambio fisso e tornò la lira brutta e puzzolente, disastro, vi ricordate carestie e pestilenze? Io ricordo due numeri che ci sono sul libretto, perché i numeri non sono di destra o di sinistra leghisti o antileghisti, l'uno è uno, tranne che per quelli del PD per cui l'uno può diventare quattro, però per le persone normali l'uno è uno. Nel 92 nel monetone eravamo in passivo, il saldo commerciale, compravamo di più rispetto a quello che vendevamo, forse come oggi, perché avevamo una moneta sbagliata, eravamo costretti a comprare perché vendere si vendeva di meno, perché il nostro prodotto bello però costava uguale a un prodotto che era più bello e quindi uno compra l'altro. Nel 93 cosa succede con la nostra monetina piccola e brutta? Il meno diventa più ciumbia, dal meno passiamo fra il comprato e il venduto al più 30 mila miliardi di lire, non il più mezzo milione, più 30 mila miliardi di lire, cioè fra quello che vendevamo e quello che compravamo come paese Italia con tutti i casini dell'Italia, che l'Italia è Monza ma l'Italia è la mezza terme, doveva fare un incontro come questo settimana prossima, ovviamente cambio alcuni termini però la differenza, magari il passaggio sui falsi invalidi lo tengo per un'altra occasione, però voglio dire non è che tanto ci stanno ascoltando magari via internet, quindi si rassegnano, siamo leghisti brutti e cattivi e quindi la in sci, però l'Italia con le sue stranezze fa più 30 mila miliardi di lire, uno dice ti è andata di culo un anno, ce lo dicono anche adesso, guarda se svaluti magari ti va bene il primo anno, poi però la paghi, 93 ti è andata bene, più 30 mila, 94 sicuramente la paghi, più 35 mila miliardi, cioè abbiamo aumentato ancora di più quella nostra monetina piccola e brutta a quello che vendevamo rispetto a quello che compravamo e quei più 35 mila miliardi erano risparmi che finivano sui conti correnti dei brianzoli, che li accumulavano e sono quei soldi che magari voi adesso state andando a recuperare per arrivare in pareggio a fine mese e non licenziare i due dipendenti rimasti o per dare una mano al figlio che con due lauree è da quattro anni che sta cercando il lavoro di spazzino e quindi quel più 35 mila miliardi di lire è quello a cui noi oggi stiamo ottenendo. Secondo anno è andata bene, però nel 95 sicuramente ti fregano perché non ti può andare sempre bene, più 30, più 35, anno 1995 è riportato sul libricino lì, Corriere della Sera se lo aprite titolava Grazie Lira, cioè il Corriere della Sera che oggi ci dice con i geni della finanza che se usciamo dall'euro e torniamo alla lira è un collasso, nel 96 lo trovate alle pagine finali titolava Grazie Lira, perché nel 95 il più diventa più 44 mila miliardi, cioè più passavano gli anni più con la moneta piccola, brutta, puzzolente, giusta, vendevamo a tutto il mondo e più mettevamo via risparmi e più il debito diminuiva e così avanti per gli anni a seguire. Quindi un'eventuale uscita l'abbiamo già fatta, poi che cosa è successo? Vendi, 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 boom, i tedeschi che non sono scemi, io lo chiarisco, io non ce l'ho con la Merkel e non ce l'ho con i tedeschi, anzi io invidio la Merkel, perché la Merkel fa l'interesse dei tedeschi, sono i politici italiani che non fanno gli interessi dei italiani, quindi averne di Merkel in Italia e mica lei la scema. Questi hanno visto che loro scendevano, noi salivamo, cosa andiamo a vendere a quella faccia da sveglione di Prodi? Andiamo a vendere un'altra moneta forte, insomma è andata male con lo smè, vuoi mettere a entrare nel gruppo A dell'euro? Figata, boom, 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 guarda caso, 2002, sono numeri, non è fantascienza, 2002, sali, 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 boom, inizi a scendere. Una volta va bene, due volte sei scemo. Ce ne siamo accorti dopo qualche anno e quindi la storia si ripete, io non ho fatto economia, ho fatto liceo classico e Gian Battista Vico parlava dei corsi e ricorsi storici, la storia si ripete, quello che abbiamo vissuto una volta lo viviamo la seconda volta e quindi prima ci svegliamo, noi non siamo contro l'euro, vi chiedo in questi ultimi 20 giorni, non dico di campagna elettorale, di ragionamenti, di libertà, di ossigeno al cervello, noi non siamo contro l'euro, l'euro è finito, noi non siamo contro un cadavere, il cadavere è lì, basta prendere atto del fatto che bisogna trovare l'uscita di sicurezza da questo cinema, prima che il tetto ci croni in testa, l'euro è contro l'euro, l'euro è una moneta sbagliata, è finito, bisogna capire quando salta e quando salta i primi che se ne accorgono sono quelli che guadagnano, gli ultimi della fila che escono sono gli scemi che pagano per tutti, quando in 10 vanno al bar è l'ultimo che rimane, solitamente ci deve mettere qualcosa più degli altri e quindi l'ultimo che rimane al tavolone dell'euro è quello che paga il conto degli altri, quindi noi non stiamo facendo una battaglia contro l'euro perché l'euro è palesemente un esperimento finito, noi stiamo come Lega, ci stiamo facendo carico con spalle grosse del giorno dopo, quindi stiamo già ragionando con Claudio su cosa succede il giorno dopo, perché non basta dire l'euro fa schifo, l'euro fa schifo e quindi c'è tutta una serie di persone non solo in Italia ma in Francia, in Olanda, in Austria, in Inghilterra, perfino in Germania, perfino in Germania c'è qualcuno che ha capito che la pacchia sta finendo e quindi passiamo all'incasso e mogliavo il tavolo del poker e quindi ci stiamo preparando al giorno dopo, non c'è bisogno di essere contro l'euro, c'è bisogno di capire che cosa fare quando l'euro finisce, i tifosi dell'euro o sono in malafede o non hanno capito e sono tutti gli altri, sono Renzi, Berlusconi, Grillo, Alfano, casi dico tutti gli altri perché le mezze misure in un momento di crisi e di dramma non esistono, o è bianco o è nero, o è dentro o è fuori, o è passato o è futuro, chi ciancia, battiamo, tutti mi dicono bisogna battere i pugni sul tavolo, l'Edesan che dice bisogna battere i pugni sul tavolo, intanto il tavolo l'hanno fottuto, non c'è più il tavolo, non puoi battere i pugni sul tavolo che non c'è, e il referendum, e Grillo ora che ci mette tre anni a fare il referendum, in Brianza facciamo tutti i pizzaioli o gli usceri, se va bene, o i tempi determinati perché il Jobs Act prevede la flessibilità, perché gli imprenditori non assumono perché non c'è flessibilità, è qualche anno che ci dicono che con la flessibilità assumono, l'imprenditore non assume se non vende, se l'imprenditore vende assume, se l'imprenditore non vende non assume, la flessibilità significa solo rubare diritti ai lavoratori, prima ho trovato una signora concorrezza che ha detto avete ragione, fate una battaglietta in più, io sono una commerciante, mi obbligano a lavorare sette giorni su sette, tutte le domeniche, e se una domenica non ce la faccio, se una domenica sto male e tengo chiuso al centro commerciale, mi danno mille euro di multa, questo non è lavoro, questo è schiavismo, la Lega vuole tornare al lavoro, noi non dobbiamo morire schiavi del lavoro, dobbiamo tornare a sorridere, dobbiamo tornare a sperare, sette giorni su sette, ma il lavoro ci monti, in miniera sette giorni su sette, almeno la domenica la mamma deve fare la mamma, il papà deve fare il papà e il nonno deve fare il nonno, non siamo qua per crepare per il 27 del mese, è questo, ci vogliono far crepare, non ci vogliono far pensare, il problema per queste persone è il pensiero, non dobbiamo aver tempo di pensare, e se hai il problema del mutuo, della disoccupazione della cassa integrazione, non hai tempo per pensare, non hai tempo per la politica, che è una roba spurca, dell'ader, in tutti ci stessi, e come Lega stiamo sconfiggendo, quanti ne sto incontrando, l'altro giorno in ascensore, quella del quarto piano, Salvini confesso che l'anno scorso non vi ho votato, mi sono girate le balle, volevo schiacciare stop, alt, campanello, però ho apprezzato l'onestà, per mille e uno motivi, litigavate, c'era casino, e bel sito, e bim bum bam, però quest'anno ci sono, quanti, alzi la mano chi sta incontrando qualcuno che sta tornando, che ha ritrovato la voglia, che ha rifatto la tessera, e che mi utavi no, e mi utavi il berlusca, ma mi sono roti ball, perché la polemica contro i tedeschi o la fai sull'economia, o la fai sui lager nazisti, chi se ne frega dei lager nazisti, Silvio parla di futuro, parla di lavoro, parla di migrazione, chi se ne fotte di quello che è successo 80 anni fa, il problema è oggi, il problema è adesso, il problema è domani, e quindi sono orgoglioso che con tutti i nostri limiti, i nostri difetti stiamo indicando l'uscita di sicurezza, l'aria è buona, i sondaggi sono buoni, non guardiamoli, ve lo chiedo cortesemente, da militante, prima ancora da segretario, io non li guardavo quando erano brutti, non guardiamoli neanche adesso che sono belli, certo meglio belli che brutti, però fino alla sera del 24 noi siamo al 3,99%, non fidiamoci, siete al 4, al 5, al 6, al 7, non mi interessa, l'ultimo voto recuperato a Seregno, recuperato a Biassono, recuperato a Villa Santa, è quello che fa la differenza, quindi dovete sentirvi soldati di una comunità pacifica ma in battaglia, l'ultimo voto recuperato al seggio la domenica dalla vicina di casa che la Saminga per Chiutà è quello che può fare la differenza, perché il 25 maggio ci saranno tante elezioni amministrative, a proposito in bocca al lupo a tutti quei matti che si sono candidati sindaci, consiglieri, assessori qua presenti perché avete dei problemi a mettervi a disposizione della vostra comunità e però vi ringrazio e vi ringraziamo di cuore e poi ci sono non le elezioni europee ma un referendum, la scheda grigia non avrà 15 simboli di partito, la scheda grigia è un referendum tra passato e futuro, tra il vecchio e il nuovo, tra la fame e la speranza, tra la disoccupazione e il lavoro, di là ci sono tutti, tutti purtroppo, di qua ci siamo noi piccolini ironiosi, quello che Grillo ha detto un movimentino, mi piacebbe che Grillo fosse in questo teatro stasera a guardare il movimentino, il movimentino che se raccoglie 500.000 firme cancella l'infame legge Fornero e quindi vi chiedo una mano andate a firmare, andate a firmare, andate a firmare perché dobbiamo arrivare a 500.000, il movimentino e magari il movimentino riesce a fare quello che non sono riusciti a fare CGL, Cisle, Will che sono una sciagura per i lavoratori italiani perché più che difendere il lavoro i lavoratori pensionati difendono le banche e la finanza e quindi domani loro vanno a Roma a festeggiare, non ho capito cosa perché ormai di lavoro ce n'è sempre di meno, domani vi aspetto a pranzo a Pontida dove il movimentino offre un pranzo a quelli che magari non lo so, non se lo possono permettere al ristorante, disoccupati, esodati, cassi integrati, quindi domani a Mezzdi vi aspetto a Pontida e domani sera sempre il movimentino offre un concerto gratis e in un momento di crisi la parola gratis suona bene con Davide Van des Fros, Monzese che io ringrazio per esserci, per metterci la faccia, la voce e la chitarra domani sera in quel di Pontida. E poi domenica, e domenica è una roba strana perché io come voi Pontida per i 24 anni precedenti in questo momento la stavo vivendo da militante, da segretario di sezione, da segretario provinciale ai tempi da giovane padano per cui si faceva Baldoria il sabato sera e ci si alzava tardi alla domenica mattina e quest'anno Pontida è diversa. Per me ho bisogno di una mano, ho bisogno di voi perché di solito a Pontida andavamo a ascoltare Umberto Bossi o Maroni che ci raccontavano dove andare e quest'anno immeritatamente tocca a me e quindi aspetto che ci siate tutti voi perché la strada la dobbiamo fare insieme. La strada la dobbiamo fare insieme. E la strada è lì fatta di cose semplici, fatta di una comunità straordinaria, io sto girando il Veneto, il Trentino, il Friuli, l'Emilia, la Liguria, gente sveglia, tanti giovani, tanti candidati. Settimana prossima farò quello che da leghista non avrei pensato di fare da segretario men che meno, lunedì mattina un incontro pubblico a Catania e poi vado sulla spiaggia di Augusta dove sbarcano migliaia non di profughi ma di clandestini e vado col cartello di vieto di accesso perché ne abbiamo le palle piene, le spiagge piene, le case piene e quindi non c'è più spazio per nessuno. E poi ci prendiamo il traghetto, la sera faccio un incontro passo da Rosarno dove sfruttano appunto queste migliaia di clandestini perché la camorra ci guadagna con questa gente. Arrivo spero alla mezzia terme verso le sei e mezza e poi faccio quello che tutti devono fare almeno una volta nella vita, io sono arrivato a 41 anni senza averlo mai fatto, vero sia faccio la Salerno-Reggio Calabria, tornando in su perché ne ho sempre visto parlare ai telegiornali ma per me è una leggenda metropolitana quindi non so se esiste o non esiste e quindi toccherò con mano il fatto che neanche la Sagrada Famiglia di Barcellona è stata un'opera così complicata perché la stanno facendo da circa 60 anni e quindi vi manderò delle foto su Twitter per vedere a che punto siamo sulla Salerno-Reggio Calabria e poi risalgo, faccio Napoli, faccio Salerno dove incontro diversi candidati sindaci evidentemente non della Lega ma di gente con le palle perché di gente con le palle al sud ce n'è che ne ha le palle piene della camorra, dell'assistenzialismo, dei politici ladri e quindi ha voglia di Lega anche a Salerno e io vado stravolentieri anche a Salerno a incontrare questa gente e poi faccio Avellino, poi Taranto fuori dall'Ilva di quel chiacchierone di vendola e poi finisco a Bari e il 7 torno su verso nord, Latina, Frosinone, Sabaudia, Roma eccetera eccetera e vi assicuro che c'è tanta voglia di una moneta giusta, di lavoro, di dignità, di onestà, di pulizia e di meno immigrazione a Monza così come da quelle parti e quindi per assurdo è la Lega Nord per l'indipendenza della Padagna che si fa carico di andare a cercare di liberare tutta questa gente e lo faccio veramente di cuore, lo faccio volentieri e spero che la battaglia per l'indipendenza e la responsabilità ci allontani dalla Roma dei palazzi definitivamente e quindi bene così. Sono le 21.44, ho due minuti abbondanti a disposizione e voglio chiudere come sono partito da Milano, per caso, partì da Milano leggendo dieci righe del processo a Galileo Galilei, non per paragonarci a uno dei più grandi geni di sempre, però per rivivere dopo 400 anni quello che qualcuno visse allora. Galilei nel 1632 pubblicò un libro in cui sosteneva una tesi matta, ovvero sia che il sole fosse fermo e la terra girasse intorno al sole. Reazione, così reagirono, che il sole sia il centro del mondo è una preposizione assurda, farsa, eretica e contraria alla sacra scrittura. Che la terra non sia il centro del mondo e che addirittura si muova, è preposizione assurda e falsa. Per questo condanniamo Galileo Galilei al carcere e per penitenze salutari gli imponiamo che per tre anni tu dica almeno una volta a settimana i sette salmi penitenziali. Tradotto che l'euro sia moneta sbagliata è per posizione assurda e falsa e quindi Borghi per tre anni deve ripetere l'euro è giusto, l'euro è giusto, l'euro è giusto, l'euro è giusto, l'euro fa bene, l'euro fa bene, l'euro fa bene, se no finisce in galera. Cosa fa quel poveretto di Galileo? Fra la galera e la biura voi cosa avreste scelto? Diciamocelo sotto voi e la galera, adesso la galera, a biuro e quindi 22 giugno 1633 poveretto Galileo, uno dei più grandi geni sempre, scrisse io a biuro maledico e detesto i miei errori e le mie eresie, per questo mi metto in ginocchio una mano sulla Bibbia e un'altra con un cero acceso. Chissà come gli giravano le balle però c'era la Bibbia, il cero e diceva che erano enormi fesserie quelle che sosteneva. 180 anni dopo, noi speriamo di metterci un pochino di meno, però 180 anni dopo la chiesa ammise l'esattezza della teoria copernicana, ovvero sia il sole era fermo e la terra girava. 359 anni dopo, nel Vaticano meditano bene sulle loro scelte, riabilitano Galileo. Ora qua non ci sono geni, scienziati, luminari, c'è però gente che osservando dice a occhio a me sembra che il sole sia fermo, è più grosso e ci riscalda e noi giriamo e dall'altra parte, no sei matto, ma no è la terra che ferma, è il sole che gira, l'euro a me sembra una cazzata e gli altri dicono di no. Io sono andato a trovare, grazie alla Lega sono andato per la prima volta nelle zone del Vajont che sono la rappresentazione più incredibile di come l'uomo se vuole è cretino e ammazza i suoi simili nel nome del progresso e vicino al Vajont abita Mauro Corona, lo scrittore. Abbiamo parlato amabilmente, è uno dei miei idoli, ho letto tutti i suoi libri, personaggio stranissimo che dorme nel sacco a peloli dove scrive i suoi libri, voi Salvini qui e là e su giù ma avete anche delle buone idee comunque e mi fa io di economia capisco poco però, cosa dice ancora il video, però secondo me l'euro è un'inculata, cioè il termine tecnico era qualcosa di simile e mi regala un, io me lo porto in tasca da Porta Fortuna, un 50 lire e mi fa io una volta con questo ci compravo tanto, adesso se vado in giro con i 20 centesimi e li do al lavavetri al semaforo mi sputa perché se dai un 20 centesimi a uno che ti vuole lavare il vetro ti prende per senti barbone vai via, o due euro o niente e quindi riprendiamoci il futuro, la Lega è nata per andare contro mano, contro vento in direzioni ostinate e contraria come diceva Di Andrè, non ci piace andare dove vanno gli altri se sappiamo che si finisce contro il muro, quindi vi ringrazio per la fiducia, vi ringrazio per la pazienza, vi ringrazio per l'entusiasmo, vi ringrazio per sale come questa invece di essere a casa a vedere la semifinale di Champions, siamo qua a parlare di futuro, ma sono felice di farlo perché io come voi lo stiamo facendo per i nostri figli, perché non voglio aver la colpa di essere stato dormiente, complice, colpevole, ignavo, mentre ci rubavano il futuro e la speranza, lo dobbiamo a noi, lo dobbiamo a Umberto Bossi che ci ha rimesso la salute, lo dobbiamo ai tantissimi militanti che non ci sono più, perché ormai in 25 anni di Lega quanta gente avete conosciuto che ci ha lasciato, ci ha salutato, io domenica sono a Pontida con una motivazione in più perché per la prima volta sul prato ci saranno una mamma e un papà che non sono mai venuti a Pontida in precedenza e sono la mamma e il papà di una ragazza che è morta in un incidente stradale il venerdì santo a 19 anni e mi hanno detto noi quando vedevamo uscire la nostra figlia a 16 anni e tornare a casa sporca di colla o di vernice la prendevamo per matta e non capivamo perché una ragazza a 16 anni invece, anzi non invece, oltre che andare in discoteca esce a fare le scritte sui muri, esce a fare i gazebo, va a fare i volantinaggi al liceo, va a Pontida, va a Verona, va a Venezia, va a Bergamo, a Sedesan, pensavamo fosse matta invece ci si è resi conto che la Lega non è un partito, noi non siamo un partito, noi siamo una comunità, siamo una famiglia, siamo un gruppo di matti, di sognatori che a volte sbagliano, a volte fanno bene, però se toccano uno di noi toccano tutti noi. E quindi avanti, a testa alta, con coraggio, con forza, liberiamo l'abrianza, liberiamo il lavoro, viva Monza, viva la Lega e il 25 mi raccomando facciamogli avere paura, devono avere paura, se avete voglia di mettergli paura alzatevi in piedi e dedichiamo questo applauso a quelli che ci stanno prendendo per il culo, non ci stiamo più, la Lega non ci sta, ci ribelliamo, non ci arrendiamo e ci riprendiamo il nostro futuro. Grazie ragazzi, buona serata a tutti e grazie per quello che fate. Grazie.